Il numero 1 è Gianluigi Numero 4 è Martin Numero 5 è Angelo Numero 6 è Quartamide Numero 8 è Gaglio Numero 10 è Gallos Numero 14 è Fernando Numero 19 è Leonardo Numero 21 è Andrea Numero 29 è Quartamide Numero 26 Stefano A disposizione, abbiamo stati regolamenti del materno di sveglia a distutta, annuncio il suo programmaIncverа si è quantitina Viva la mia vita! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.